Il presidente dell'Anci Abruzzo, Gian Guido D'Alberto, ha formalizzato una richiesta alla regione Abruzzo per un protocollo comune sulle scuole. Sì, è una richiesta formale, ho sentito tutti i sindaci del direttivo di Anci, quindi c'è una richiesta e un'esigenza condivisa, ma c'è soprattutto una comune visione su un punto. Il diritto alla salute dei nostri ragazzi, degli insegnanti, della comunità scolastica deve passare al di sopra di qualsiasi formalismo burocratico. Ecco perché questa richiesta è una richiesta che vuole estendere le misure introdotte dalla circolare ASLE, dal comitato ristretto dei sindaci, misure precauzionali che vogliono mettere in sicurezza subito i nostri ragazzi che abbiamo condiviso con gli altri sindaci e che risponde a questo principio molto semplice. Laddove c'è una comunicazione di un rischio, esempio con un caso positivo per un nostro ragazzo, anche da tampone privato all'interno delle scuole, il dirigente scolastico è autorizzato dall'ASLE, dall'autorità sanitaria locale, a mettere subito, e deve farlo, in sicurezza, la classe, sospendendo l'attività in presenza e attivando poi il percorso sanitario da parte dell'ASLE per il tracciamento, il controllo e le verifiche su cui poi ci saranno gli esiti che determinano le azioni. Secondo lei è l'unico modo per evitare i tanti contagi all'interno delle scuole in questo momento? Sì, è uno dei passaggi fondamentali perché evita che ci possa essere in una situazione di difficoltà, di affanno, di oggettiva difficoltà, visti i numeri, che ci possa essere uno spazio temporale nel quale la scuola non venga messa, la classe in quel caso non venga messa in... Si aggira sui quattro giorni, ci dicevano dall'ASLE. Può variare, può variare, deve essere immediato ovviamente, ma i protocolli che sono stati scritti ad agosto non tenevano conto dell'incremento dei contagi che purtroppo in questo momento stiamo vivendo. Questa è la realtà dei fatti. Quindi occorre intervenire, intervenire rivedendo questi passaggi e mettendo in sicurezza i nostri ragazzi. E nessuno si permetta di poter mettere in discussione una disposizione dell'autorità sanitaria locale che risponde ad un criterio di precauzione, di tutela del diritto alla salute, di riduzione del rischio. Quindi l'invito che abbiamo già fatto ma stanno lavorando in questa direzione le nostre dirigenti che sento quotidianamente, le ringrazio per il lavoro difficile che stanno svolgendo, è dare immediata applicazione a questa giusta meritoria circolare, farlo senza indugio perché ovviamente non ha alcun senso disporre una non applicazione di una disposizione sanitaria in periodo di emergenza. Quindi si va davanti in questa direzione, noi come sindaci siamo al loro fianco, le accompagniamo insieme all'ASL per ogni tipo di percorso ma dobbiamo assolutamente metterle in condizione e lo stiamo facendo, la circolare lo fa i nostri ragazzi, nessuno dica il contrario.